Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova puntata di Europa Vicina. Ci troviamo oggi a Masainas, siamo venuti a visitare l'agriturismo, un'azienda molto particolare di biodinamica, bioedilizia, Sarreina. Venite con noi perché Samuel Caboni ci sta aspettando. Permesso, eccoci arrivati. Ciao Samuel. Allora, siamo nell'agriturismo Sarreina, siamo a casa tua praticamente Samuel. Questo agriturismo fantastico, lo vedete, molto accogliente, realizzato con tutte le tecniche della bioedilizia. E infatti si vede anche solo lo sguardo, basta per capire che già i muri sono di fattura biologica. Mi dicevi addirittura fango? Sì, c'è la struttura portante in legno, tra la struttura portante ci sono le balle di paglia del nostro grano capelli e dopo avevamo tolto la terra viva, quindi 20-30 cm di terra con semi, radici, messa da parte. E la terra di più sotto, usata poi per intonacare la paglia, le balle di paglia, con l'aggiunta di sabbia, una rete di juta e all'esterno l'ultimo ritocco con la calce, con un'aggiunta di calce. Ecco, lo ricordiamo anche per chi ci sta guardando che tutto questo è stato realizzato grazie ai fondi del GAL, del Sulcis Iglesiente. Un aspetto molto importante, vedremo anche più avanti, perché anche in questo caso l'intervento del GAL e dei fondi dell'Unione Europea sono stati indispensabili per realizzare un'azienda fantastica di agricoltura sociale, abbiamo detto biodinamica, bioedilizia e insomma tanto altro. Intanto Samuel, possiamo avvicinarci, andiamo a salutare gli amici, le amiche anzi, che oggi faranno compagnia a me, insomma a voi per questa puntata di Europa Vicina. Allora intanto mi siedo qua, mi accomodo vicino a Nicoletta, ma insieme a noi c'è anche Franca, c'è anche Ania, che è la moglie di Samuel, con una creatura meravigliosa in braccio, che sarà il futuro di questo posto meraviglioso, di questo posto quasi incantato. Perché Nicoletta? Ci siamo addentrati, ci troviamo appunto, l'abbiamo detto, nel comune di Masainas, siamo nella zona costiera, perché vicino a noi c'è Isolinas, il litorale di Isolinas, una spiaggia molto lunga, molto bella, e ci troviamo a metà strada, tra il mare e la campagna. Buongiorno a tutti, sì, io sono contentissima di essere qui in azienda da Samuel, perché Samuel rappresenta la sua azienda in particolare, quella continuità che il GAL vuole portare avanti, la continuità dei giovani in agricoltura, la continuità che fa parte della mission istituzionale del GAL, nel far sì che i giovani rimangano, siano resilienti nel nostro territorio, e quindi questa azienda lo rappresenta, perché Samuel, Conania hanno voluto investire nel loro lavoro di giovani agricoltori, con il GAL hanno presentato un progetto nella programmazione 2007-2013, per la realizzazione di questa struttura agrituristica, e hanno iniziato anche con noi un percorso di agricoltura sociale e di fattoria didattica. La loro azienda è centrale in quella parte di territorio, come dicevi tu, di terra e di mare, e quindi possiamo godere sia delle bellezze del mondo rurale, ma anche a facerci poi poter usufruire le bellezze della nostra costa, della spiaggia di Solinas, con le sue dune bianchissime, e con tutto l'aspetto paesaggistico, che è veramente importante e rilevante. Bene Nicoletta, ti ringrazio per aver spiegato meglio, insomma per aver raccontato meglio, aver contestualizzato l'agriturismo in cui ci troviamo, l'agriturismo sarreina, che dicevamo Samuel, un agriturismo vero, nel senso che anche ciò che voi proponete è frutto esclusivamente di ciò che producete. Sì, noi ci siamo rivolti proprio a Nicoletta nel 2012 per richiedere come possiamo trasformare i nostri prodotti e come possiamo accogliere dai bambini ai diversamente abili. E lei ci ha detto, guarda un agriturismo ha tutte queste possibilità qua, e allora così abbiamo presentato la domanda, e quindi tutti i nostri prodotti possono passare in cucina e essere trasformati come pasto, dalle verdure ai latticini e alla carne e in più possiamo accogliere le persone diversamente abili, facendo fattoria sociale e i bambini per fare fattoria didattica, quindi portare a riscoprire la terra. Ecco Samuel, tu nasci già come agricoltore, questo era già il tuo mestiere, quindi diciamo che un po' ti sei dovuto, hai dovuto reinventare la tua azienda in questo senso. È stato facile, hai trovato delle difficoltà? Sì, per me i primi sette anni era capire cosa vuol dire gestire un'azienda, capire i bandi, come funzionano, come bisogna comportarsi, perché non è semplice, c'è chi vuole farli funzionare, c'è chi invece cerca di bloccarli, però si è arrivati a conclusione di poter usarli e quindi qua era campo di carciofi, di erbai, mio padre aveva capre, era tutta un'altra cosa, però io poi sono venuto nel 2010 a prendere in mano l'azienda con la mia compagnagna e da lì abbiamo cercato di migliorarci sempre di più e così l'abbiamo potuto fare. Ecco, tu dicevi, mio padre qua c'era una carciofaia, mio padre gestiva le capre, tu invece oggi che cosa gestisci su queste terre? Su queste terre abbiamo mollato un po' le capre, ne abbiamo solo qualcuna, abbiamo investito nelle vacche, trasformiamo il latte di vacca perché è biologico, in formaggi semistagionati, cacciote, provole, yogurt, mozzarella. Sì, poi abbiamo tanti ortaggi, facciamo le carote per le mense scolastiche ospedaliere in gran parte, poi ci siamo anche buttati nei cereali antichi dal 2012, abbiamo ricevuto dalla Agris e dall'Università di Sassari piccole manciate di varietà antiche che non venivano più utilizzate perché producono piccole quantità ma non sono perfette per le persone, per l'alimentazione, in quanto a un glutine che il nostro corpo riconosce e digerisce molto meglio che i grani moderni che invece hanno quantità di produzione enorme, però fa fare la pizza da lanciarla, non si spacca, è elastica, però nel nostro corpo per certe persone è più difficile digerirli. Samuel, quindi la valorizzazione, dare di nuovo nuova vita ai grani antichi è già di per sé una grande cosa, attraverso questo grano poi tu realizzi il pane, la pasta che comunque portano con sé dei sapori e dei profumi diversi da quelli a cui ormai purtroppo ci siamo abituati. Sì, noi proponendoli come pasta per esempio, qua facciamo le tagliatelle fatte al momento proprio in cucina come c'è la gente qua che sta mangiando gli antipasti, si preparano le tagliatelle, le persone lo possono vedere in cucina e dopo lo sentono col gusto che è un grano diverso, una farina diversa che è stata usata, non quella che viene usata normalmente. Chi si occupa della cucina Samuel? Agna, la mia compagna. Parliamo un po' adesso della cucina, di come viene trasformato tutto ciò che Samuel e Ania, sua moglie, producono proprio in questa fattoria, in questo agriturismo. Chi si occupa della cucina in realtà è Ania. Ania, tu sei tedesca e hai dovuto, come dire, hai dovuto e voluto ovviamente imparare anche i trucchi della cucina tradizionale nostrana. Immagino che insomma non sia proprio stato facilissimo all'inizio. Allora, prima di tutto devo dire che la nostra cucina non è proprio questa tradizionale, è più la cucina su quello che abbiamo noi. cioè noi il menù facciamo a base di quello che produciamo, non a base di quello che dice la tradizione. Quindi non è proprio tradizione sarda. E più, sì, trasformiamo tutto quello che abbiamo, si mangia. È in forma di antipasti, primi, secondi, questo sì, però sì. Ma nel tuo modo di cucinare c'è un po' di sardo e un po' di tedesco? Sì, no, no, ho preso molte cose della cucina italiana perché anche a me, personalmente, piace molto. È più leggera, più sana, sì. Da quanto tempo sei da noi? Dieci anni adesso. Dieci anni. Complimenti perché parli un italiano anche migliore di qualche italiano. E conosciamo un pochino meglio anche un'altra amica che è venuta a trovarci questa mattina, Franca Loru, che si occupa prevalentemente della coltivazione dello zafferano in un luogo meraviglioso, un luogo incantato. Non è un caso, infatti, che la sua azienda si chiami Aroma di Mare. Franca, dicevamo appunto un luogo incantato. Mi dicevi, dalla mia azienda ho la fortuna di vedere le dune di Portopino. Esatto, proprio dal capo di zafferano dove solitamente a novembre, ormai siamo quasi vicini alla fioritura, durante il raccolto possiamo ammirare la bellezza delle dune, sì, di tutto il paesaggio circostante. La coltivazione dello zafferano ha con sé sempre qualcosa di magico, Franca, perché vedere questa distesa di fiori lilla sul viola, ok, fiori tra l'altro così teneri, così delicati, così anche, come dire, fragili, se vogliamo, no? È sempre qualcosa un po' di romantico e soprattutto ciò che questi fiori meravigliosi producono è estremamente prezioso. È vero. Lo zafferano è sicuramente molto immaginato come un qualcosa di molto prezioso, ma è anche, come dicevi tu, qualcosa di molto delicato, ma allo stesso tempo anche molto forte. È forte nella sua rinascita, nella sua rinascita dalla terra. Tu immagina che ancora prima di nascere la pianta nasce il fiore, quindi da subito puoi ammirare la bellezza di questa spezia. È faticoso perché comunque è una coltivazione che richiede prevalentemente tutto lavoro manuale, quindi dall'impianto alla coltivazione e soprattutto anche alla trasformazione, la raccolta del fiore per arrivare poi sino al prodotto finito, alla confezione dello zafferano. Però è un qualcosa che dà molta soddisfazione, come dicevi tu, meravigliosa perché appaga soprattutto durante la fioritura, dove tra l'altro attira tantissime persone. Ogni anno vengono tante persone anche da fuori, anche dall'estero. Ho avuto delle persone che vengono a fare il raccolto. E anche ragazzi, come Samuel, anch'io sono una fattoria sociale, quindi accolgo dei ragazzi disabili e apprezzano tantissimo. Di solito collaboro anche con delle comunità che nel periodo della raccolta dello zafferano portano i ragazzi e per loro trascorrere una giornata in mezzo ai fiori, al sole, con un bellissimo panorama in compagnia, è veramente un regalo. E quindi sono felicissima di potergli dare questo. Tra l'altro, Franca, lo zafferano dalle molteplici sfaccettature, perché siamo abituati a conoscere il suo utilizzo in cucina. In realtà gli usi dello zafferano sono molteplici. Da un punto di vista salutare, del benessere, ma anche da un punto di vista, passate il termine, tra virgolette, chimico, cioè parliamo delle vecchie tinture, per esempio. Esatto, anche delle vecchie tinture. Infatti, proprio in occasione di un progetto di agricoltura sociale, che andremo a svolgere anche in collaborazione con l'azienda di Samuel, e faremo anche questi esperimenti. Quindi utilizzeremo la lana del territorio, collaboreremo a sua volta con delle aziende che hanno appunto degli ovini e faremo la tintura della lana. Bene, Franca, grazie. Ti ringrazio davvero tanto per avermi così illuminato sull'aspetto che riguarda lo zafferano, un fiore fantastico, una spezia altrettanto fantastica. Torno? Grazie. Torno invece adesso un attimo su Samuel, perché voglio chiederti se ci puoi portare a visitare la fattoria. Certo, volentieri. Andiamo. Samuel, ci troviamo proprio di fronte a un piccolo recinto dove ci sono tre pecore, due vitellini, due caprette, un piccolo tesoro. Sì, questo è l'asiletto, diciamo. Poi le pecore e le caprette escono fuori al pascolo e i due vitellini invece ricevono ogni mattina, ogni sera, del buon latte dalle mamme. Una volta che, diciamo, sono cresciuti un po' di più, sono in grado, un po' più autonomi, li lasciate, diciamo, al libero pascolo con gli adulti? Certo, certo. Nella biodinamica si dice dopo 24 mesi di età e vengono fatti anche montare dal maschio, quindi entrano anche poi in produzione del latte, più o meno dai 30 mesi in su. Samuel, adesso invece hai parlato di pascolo libero, andiamo proprio a vedere, a visitare gli altri animali che ci sono, che vivono in questa fattoria e che vivono veramente una vita felice allo stato brado. Sì. 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 Giovani sono pochi che le continuano e quindi poter proporre, non soltanto l'Agraria che ha tanta teoria e anche un po' di pratica ma anche proprio un apprendistato di agricoltura biodinamico, anche non biodinamico, ancora solo biologico, convenzionale, però di poter consentire ai giovani di lavorare nelle aziende e apprendere e poi poter prendere loro in mano d'azienda. Se anche io avrei preso soltanto in mano l'azienda di mio padre sarei restato a Camer rurali, vigna e capra però non so invece insomma la cosa è andata avanti si è evoluta alla grande direi ecco Samuel a proposito ci troviamo proprio davanti al pascolo libero abbassa un po' la voce perché non vorrei davvero disturbare le vacche che stanno in questo momento mangiando insomma questo dovrebbe essere come dire la normalità, la regola l'animale che pascola libero sui campi, sui prati e tutto poi va a calare in meglio dall'animale verso l'uomo si esatto noi produciamo anche mais, produciamo anche sorco per avere anche quello durante i periodi dove l'erba cresce meno, tipo l'estate però prevalentemente sono sempre allo stato brado i nostri animali quindi stanno meglio così anche i zoccoli per esempio solo per dirne una banale però i zoccoli si consumano da soli come vanno ai pascoli mentre negli allevamenti intensivi dove sono sempre nelle stalle i zoccoli bisogna sempre ritagliarli grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Insomma c'è stato anche un importante progetto perché insieme a dei ragazzi diversamente abili avete realizzato oltre 300 mattoni di fango. Esatto sì, abbiamo fatto nel progetto Serenamente insieme a tutto quel gruppo di queste persone meravigliose abbiamo fatto 300 ladri, avevamo le forme, abbiamo preso la terra, tutte le lavorazioni, siamo stati insegnati da un muratore noi e abbiamo fatto questi ladri per poi fare un forno a legno dove poi faremo fare pane, maialetti, tutto quanto che si vuole. Grazie a tutti. 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 qualcosa che Ania e Samuel hanno preparato per noi, sono delle cose gustose, deliziose, completamente preparate da loro e soprattutto con i prodotti e solo con i prodotti che loro producono, come abbiamo visto, nella loro fattoria sociale. Da qui vi voglio salutare, vi lascio con queste fantastiche immagini, vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Europa vicina. Grazie a tutti.